Era nell'aria da tempo e stamattina c'è stato l'epilogo. L'assessore Luigi Ponziani questa mattina ha rimesso nelle mani del sindaco di Teramo il proprio mandato, alla base della decisione sostanzialmente ai pochi fondi e il poco personale a disposizione dell'assessorato alla cultura e la mancanza di serenità. Ragioni di diverso segno non mi consentono di garantire con la necessaria continuità, assiduità ed efficacia l'impegno legato al mio incarico di assessore al quale la tua fiducia mi aveva chiamato e che speravo di poter svolgere in un clima di auspicabile serenità, scrive Ponziani in una lettera consegnata nelle mani del sindaco d'Alberto. Di qui la mia decisione di rassegnare le dimissioni rimettendo in capo a te le deleghe che mi sono state assegnate oltre un anno fa. Il resoconto dell'attività da me svolta e consegnata parimenti nelle tue mani, scrive ancora Ponziani nella lettera al sindaco, da conto dello sforzo compiuto in questo lasso di tempo, pur in presenza di difficoltà, di ordine finanziario, amministrativo e in carenza assoluta di personale che non mi hanno consentito di fare meglio e di più. Nel ringraziarti per la fiducia, a suo tempo accordatami, ho il piacere di salutarti con immutata stima, conclude Ponziani nella lettera inviata al sindaco. Prendo atto della decisione, dice il sindaco d'Alberto, che ho comunque cercato di evitare, chiedendo a più riprese all'assessore Ponziani, di tornare sui propri passi. Ringrazio Luigi per tutto ciò che è riuscito a portare a termine in questi 15 mesi di guida dell'assessorato, dice ancora d'Alberto, segnati da un considerevole cambio di passo col più recente passato, dove la cultura rappresentava un aspetto marginale e non un capitale, un punto cardine da cui ripartire. Ringrazio Ponziani, dice ancora d'Alberto, anche dall'amicizia che ci ha legati sin dall'inizio della nostra avventura amministrativa e politica e sono certo che, da padre nobile del progetto che ci ha condotti a guidare la città, conclude il sindaco di Teramo, Gianguido d'Alberto, egli continuerà a non farci mancare il suo prezioso apporto, rimanendo parte viva e rinunciabile del nostro percorso.